Il campionato è un'altra cosa, dobbiamo fare le cose differenti, la Coppa è finita, adesso inizia l'anno e dobbiamo fare le cose differenti della Coppa Italia. È una cosa differente, come ho detto, solo dobbiamo stare concentrati e andare qua con la cattiveria per fare un risultato. È una squadra che va a giocare sul calcio e che va a fare tutto per prendere i tre punti su casa. Noi dobbiamo solo stare concentrati con il nostro calcio e basta. Penso che la partita è migliore per noi adesso perché dobbiamo fare di più per fare i risultati. Penso che per me è la partita giusta per iniziare l'anno, dobbiamo andare con umidità e personalità per fare un risultato. No, solo dobbiamo stare attenti perché loro hanno giocatori forti, però non con paura, solo con attenzione, solo con questo. Deve stare concentrati, però non con paura. No, penso che solo è una serie negativa che arriva in tutte le stagioni. Penso anche le grandi squadre. Adesso siamo in una posizione un po' più difficile. Siamo concentrati e abbiamo fiducia nella nostra forza e questo è il football. Una volta sei giù, una volta sei su. Dobbiamo solo cambiare una cosa per andare avanti. Non so se sarà una cosa buona per noi o per loro, però dobbiamo stare solo concentrati con il nostro calcio. No, sì, sono a mezzo della stagione. Io aprendo ancora del calcio dell'Italia. Sì, posso fare di più, lo so, e sono lavorando per questo. Sono bene, ero un po' stanco delle ultime settimane, però adesso sono bene. La squadra ha fatto una buona partita, penso, però non abbiamo fatto gol e questo manca adesso di fare un po' di più offensivo. Sì, penso che è più difficile che gli altri campionati, però tatticamente è molto più difficile che gli altri campionati. In Turchia era più fisicamente, però qui è più tattico e anche differente, sì. Tatticamente è molto più difficile. No, io dieci anni fa non ho pensato di venire qui in Italia, solo sono una persona che non pensa troppo avanti. Sempre io ho lavorato per fare le cose migliori nella mia carriera e adesso sono un punto buono della mia carriera. Penso di stare qui in Serie, però, come si dice, solo sono disfrutando il momento, però non vedo troppo avanti. Grazie. 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 Grazie.